Grazie. Buon pomeriggio, buonasera anzi. Innanzitutto, prima del Consiglio dei Ministri si è svolta un'unione tra i ministri che stanno seguendo direttamente la grave crisi che si sta sviluppando attorno alla vicenda dell'utilizzo delle armi chimiche in Siria. Nella riunione tra i ministri, appunto presenti insieme a me il Vicepresidente Alfano, il Ministro degli Esteri Bonino, il Ministro della Difesa Mauro, il Sottosegretario ai Servizi Segreti Minniti, abbiamo confermato la posizione che il Ministro degli Esteri Bonino ha espresso ieri in Parlamento, quindi una posizione di secca, netta condanna dell'utilizzo delle armi chimiche. È un crimine contro l'umanità e quindi noi chiediamo con grande forza che tutte le conseguenze e tutte ovviamente ciò che in termini di punizione e di reazione rispetto a quanto è avvenuto e a questo crimine nei confronti dell'umanità riesca effettivamente a essere messo in campo. Sapete che l'Italia per tradizione e anche per quadro giuridico richiede la legittimità attraverso la presenza di atti motivati e coperti dalle Nazioni Unite, quindi noi questo chiediamo. Tuttavia ribadiamo e l'abbiamo ribadito ai nostri alleati americano ed europeo una forte condivisione della condanna nei confronti di quanto è avvenuto e nei confronti del regime di Assad. Seguiremo passo passo l'evolversi della situazione. Per adesso appunto il tipo di comunicazione che voglio fare si ferma qui. Avete visto il comunicato che abbiamo dato fuori poco fa e ovviamente però questa cabina di regia del governo su questi temi è convocata permanentemente per seguire passo passo le vicende di questa gravissima crisi internazionale che è nata per l'appunto dalla decisione criminale per quanto per adesso se ne sa del regime di Assad e dell'utilizzo delle armi chimiche. Abbiamo chiesto con grande forza alle Nazioni Unite che siano date tutte le risposte e ovviamente che sia chiarito tutto quello che è successo. Vengo al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, un Consiglio dei Ministri molto importante come sapete nel quale abbiamo assunto decisioni credo significative. Sono quattro i capitoli nei quali si compone il decreto legge che abbiamo approvato e che ovviamente data la complessità del tema verrà definito nei particolari nelle prossime ore e quindi avrete poi il testo completo successivamente proprio perché la necessità di scrivere bene tutti i particolari è una necessità che credo prevalga su tutto il resto trattandosi oltretutto di un decreto legge. Sono quattro i capitoli del decreto, un primo che sono tutte urgenze, tutte operazioni credo molto importanti per il nostro Paese per dare dei segnali molto forti. La prima abbiamo deciso di dare una risposta molto significativa sulla urgenza della fine delle risorse che erano state allocate per la Cassa Integrazione, quindi per il lavoro. Abbiamo rifinanziato la Cassa Integrazione per mezzo miliardo di euro, questo rifinanziamento è un rifinanziamento che renderà possibile nei prossimi mesi dare risposte, risposte credo importanti e significative rispetto alle crisi industriali e alla crisi sul lavoro che il nostro Paese sta vivendo. Quindi una prima risposta molto importante che è in linea con le decisioni che abbiamo assunto già nella primavera scorsa, perché appunto in questo momento l'emergenza lavoro ci pare un'emergenza particolarmente significativa, accanto ai provvedimenti per la crescita abbiamo ritenuto necessario mettere in campo, e che sono quelli già presi nei precedenti Consigli dei Ministri e che prenderemo nella legge di stabilità. C'è la necessità oggi di dare risposte ovviamente a coloro che hanno perso il lavoro e che si trovano in una situazione di difficoltà. La Cassa Integrazione è rifinanziata oggi è una prima risposta molto importante. Un secondo capitolo del provvedimento, dei quattro capitoli che citavo prima, è il capitolo che riguarda una risposta a una delle categorie oggi più disagiate dal punto di vista sociale del nostro Paese, sempre sul terreno del lavoro. In particolare siamo andati a individuare, dopo discussione di queste settimane, dopo che attorno a questo tema si è discusso a lungo, sulla questione degli esodati, dei cosiddetti esodati, si è andata a individuare la categoria più disagiata dell'intero mondo, purtroppo, degli sfortunati lavoratori che vanno sotto la definizione di esodati, e in particolare la categoria dei licenziati individuali, di coloro che si sono licenziati individualmente prima dell'applicazione della norma della legge della riforma sulle pensioni e che poi dopo per l'allungamento che è intervenuto dell'età pensionabile si sono trovati e si trovano tuttora in una condizione privi di stipendio e privi di pensione. Si tratta di circa 6.500 persone. A queste 6.500 persone oggi diamo una risposta strutturale e questo è, dopo i tre interventi che il Governo Monti fece per sistemare la vicenda degli esodati, questo è il quarto intervento che appunto viene svolto per cercare di chiudere, di arrivare a chiusura della vicenda complessa degli esodati. Il terzo e il quarto capitolo del provvedimento riguardano la questione della casa. In particolare il terzo capitolo riguarda il tema del sostegno a favore della casa e a favore in particolare di categorie disagiate di cittadini che hanno a che vedere con il tema della prima casa. Riguarda la prima casa, riguarda il tema degli affitti, è un provvedimento molto complesso, il Ministro Lupi appunto è qui per illustrare questo provvedimento, mentre il Ministro Giovannini illustrerà i primi due capitoli che ho citato precedentemente. Questo terzo capitolo del provvedimento dà una risposta molto forte al tema della difficoltà delle famiglie italiane oggi sul tema della casa, dei mutui per la prima casa, sul tema degli affitti. Si cerca soprattutto di intervenire su quelle categorie di disagio colpite particolarmente dalla crisi. Parliamo della cosiddetta morosità incolpevole, cioè di quelle persone che si sono trovate in difficoltà a pagare le rate dei mutui perché hanno perso il lavoro, per esempio, durante la crisi. Parliamo delle giovani coppie, parliamo dei lavoratori con contratti precari. Tutti interventi, li illustrerà poi il Ministro Lupi, che aiutano e sostengono queste categorie disagiate sul tema della casa e ovviamente accanto a questo poi c'è tutto un grande capitolo, questo legato all'azione della Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno all'edilizia, all'edilizia sociale, tutto il capitolo del social housing che con un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti viene fortemente incentivato e che riteniamo essere una delle altre parti del capitolo che peraltro è già iniziato con l'intervento che facciamo prima dell'estate sulla questione delle ristrutturazioni per l'aiuto dell'edilizia nel nostro Paese. Sapete che l'edilizia è stato uno dei settori che è crollato negli anni scorsi e dal rilancio dell'edilizia noi vogliamo far ripartire la crescita e quindi in particolare questi interventi che sono interventi che riguardano appunto il social housing, l'edilizia e poi che aiutano categorie particolarmente svantaggiate di italiani sul terreno dei mutui e della casa rappresenta sicuramente un fatto molto importante e devo molto ringraziare rispetto a loro che si è fatto. Qui dentro ci saranno anche i capitoli che hanno a che vedere con gli studenti, i convitti studenteschi, tutto ciò che appunto riguarda l'aiuto di categorie di italiani che oggi in particolare hanno vissuto dal periodo della crisi una situazione nel rapporto con l'abitazione particolarmente complessa. Per quanto riguarda poi il quarto capitolo, il quarto capitolo è quello che ha a che vedere con la tassazione sulla prima casa e sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali. abbiamo assunto una decisione che è fatta di tre capitoli complessivi, quella che riguarda l'Imu. L'Imu viene cancellata dal 2014, non ci sarà più appunto l'Imu come l'abbiamo conosciuta fino a oggi nella linea dell'impegno che avevamo assunto quando è nato il governo. Quindi la riforma, il superamento porta oggi alla fine dell'Imu. Dal primo gennaio 2014 nasce la service tax che unifica e che tocca la tares anche e quindi è un intervento che riguarda i servizi e non per l'appunto il concetto di proprietà dell'abitazione così come fino adesso era riguardato per l'Imu. Quindi questa prima decisione è una decisione che verrà formalizzata nella legge di stabilità, quindi legge di stabilità che presenteremo il 15 di ottobre al Parlamento e poi il Parlamento discuterà, modificherà e approverà. La service tax verrà nel frattempo discussa con i comuni innanzitutto e poi naturalmente col Parlamento e nascerà dal primo gennaio, poi dirò un paio di parole su questo tema. Quindi dal primo gennaio service tax. L'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli e sulle abitazioni rurali per quanto riguarda il 2013 non verrà pagata, la quota e la rata di settembre, la copertura della rata di settembre sarà già dentro questo decreto legge e sarà tutta gestita senza aumenti di tasse, senza aumenti di nuove tasse, questo lo dico rispetto alle indiscrezioni che erano uscite nei giorni scorsi, così come anche il rifinanziamento della cassa integrazione, tutte operazioni che avvengono senza aumenti di tasse e nel decreto legge che accompagnerà il 15 di ottobre la legge di stabilità saranno indicate le coperture della eliminazione della seconda rata, quella di dicembre che confermiamo e abbiamo deciso in Consiglio dei Ministri che appunto verrà coperta e non pagata. avverrà il 15 di ottobre perché alcune di queste coperture si svilupperanno nelle prossime settimane da qui al 15 di ottobre e quindi saranno disponibili queste coperture per il 15 di ottobre e siccome tutta questa operazione la facciamo senza modificare il saldo dei conti pubblici e quindi il messaggio che diamo a Bruxelles e a tutta Europa e che noi facciamo questa operazione rimanendo sotto il 3% e mantenendo gli impegni che ci siamo presi con Bruxelles, credo che appunto la scelta fatta di queste tre tappe via la rata di settembre con le coperture indicate in questo decreto, via la rata di dicembre con le coperture che il 15 di ottobre saranno nel decreto legge che accompagnerà la legge di stabilità e la nascita della service tax dal primo gennaio 2014. L'ultima cosa che voglio dire riguarda proprio la service tax e il rapporto con i comuni. Credo che sia molto importante, poi mi fermo e lascio la parola ai colleghi che illustreranno poi le altre parti, le varie parti di questo provvedimento. Credo che sia molto importante, lo dico rispetto soprattutto a tutta la discussione politica in corso e che c'è stata in questi mesi e in queste settimane. La riforma dell'Imu e il cambiamento radicale di una tassa che nella sua applicazione ha riscontrati vari punti di iniquità era assolutamente necessario. I partiti politici che si sono presentati alle elezioni hanno tutti al loro interno in modo più o meno marcato una chiara indicazione della necessità del superamento dell'Imu. Questa indicazione l'abbiamo assunta nel programma di governo ed era chiarissimo ed era un'assunzione del programma di governo per vari motivi. Un primo motivo riguardava la questione dell'equità. Oggi per come sono sistemate le rendite catastrale nel nostro Paese si finisce la stessa tipologia di casa in una parte d'Italia, fa pagare un'Imu tripla, quadrupla, quintupla rispetto alla stessa tipologia di casa in un'altra città italiana e questo ovviamente non è equo rispetto soprattutto alle potenzialità e le disponibilità dei proprietari. Perché questo fa parte di una situazione di rendite catastali totalmente sperequate. Chi le ha rimesse a posto, chi le ha mantenute come erano e questa sperequazione poi incide pesantemente naturalmente sulla equità e sulle famiglie e le loro disponibilità. In secondo luogo noi vogliamo oggi ed è questo il patto che abbiamo fatto con i comuni creare un meccanismo federale di responsabilità e non invece un meccanismo per il quale i comuni erano praticamente sostanzialmente gli esattori e poco di più. Qui invece ed è questa la scelta forte che facciamo un'imposta federalista, la service tax, ripeto con la tares dentro, un'imposta federalista che fa scattare il meccanismo della responsabilità. Pago, vedo, voto. Se il sindaco applica bene in modo responsabile, trasparente, lo rivoto. Se non applica bene, vedo che non applica bene, che fa delle scelte sbagliate e con il mio voto posso. Questo tema del federalismo e della responsabilità dei comuni degli enti locali è fondamentale e rappresenta e ha rappresentato negli anni una delle difficoltà proprio della tassazione sulla casa, dell'ISCI prima, dell'IMU poi e la service tax oggi chiude un capitolo e invece apre un capitolo nel quale i comuni, i sindaci saranno protagonisti e avranno quindi la possibilità di fare scelte legate alla progressività, legate all'equità, legate appunto alla loro responsabilità e credo che questo sia un altro aspetto essenziale. Infine, credo che sia molto importante questo concetto. La prima casa non produce reddito ma produce un carico di servizi e conseguentemente delle spese per la collettività. Questo è il concetto da cui è partita tutta la riflessione sulla necessità del superamento. Allora, con il meccanismo della service tax si riconosce per l'appunto che la prima casa non produce reddito e questo è un passaggio essenziale ma invece la prima casa produce la necessità di fruire di alcuni servizi collettivi che sono afferti dal comune e che quindi vanno pagati. E introduce il concetto del condominio. Ognuno di noi, di chi vive in un condominio, sa che ci sono i luoghi comuni, sa che ci sono alcuni servizi, sa che c'è l'illuminazione, che c'è il canone condominiale. La stessa cosa vale per un'abitazione all'interno di un quartiere e questo tema dei servizi diventa quindi il tema attorno al quale si crea il legame tra chi abita in una casa, in un'abitazione e la collettività e quindi il sindaco e il comune che gestisce questa collettività. Questo ci sembra essere un principio oggi chiaro che introduce elementi quindi di equità, trasparenza, responsabilità molto molto più importanti e migliori rispetto a quelli che sono prima. Il tutto ovviamente attraverso una diminuzione del carico fiscale sulle famiglie degli italiani che ha rappresentato da sempre uno dei modelli fondamentali, uno degli obiettivi fondamentali con cui il governo si è mosso. Ridurre il carico fiscale ovviamente mantenendo i conti in ordine e mantenendo gli impegni che ci siamo presi con Bruxelles. Credo che questo sia fondamentale. in Consiglio dei Ministri abbiamo individuato e condiviso sulla base appunto della proposta del Ministro Saccomanni e del Ministro del Rio l'architettura fondamentale della futura Tares con una componente dovuta a chi occupa locali o aree suscettibili di produrre rifiuti e la seconda componente a carico di chi occupa fabbricati. Sulla costruzione della futura Service Tax interverranno cito in particolare due concetti essenziali che sono due impegni che ci siamo presi e che vogliamo mantenere. Ovviamente lo proporremo al Parlamento, discuteremo poi insieme al Parlamento. Due concetti sono il primo, venire incontro al mondo delle imprese attraverso un meccanismo di deducibilità che ha a che fare soprattutto naturalmente con le aree e i fabbricati, scusate, funzionali alla produzione e all'attività di impresa. Era un impegno, abbiamo discusso, lungamento col mondo delle imprese e nella futura Tares questo tema dovrà essere un tema tenuto in conto. Nella nostra valutazione è uno dei punti essenziali della nuova Tares che non deve andare appunto contro la produzione, la crescita, la produzione di PIL e l'altro concetto che è quello di cui ho parlato ieri stesso col Presidente del Forum del Terzo Settore è tutto il tema dei locali legati all'attività no profit del Terzo Settore che oggi sono stati pesantemente penalizzati dall'Imu che appunto li comprende e che invece in prospettiva futura vogliamo nella Tares appunto completamente alleggerire perché crediamo che tutto questo passo sia molto importante. Quindi in conclusione, sono stato lungo ma credo che fosse necessario dare tutte le informazioni e tutti gli elementi essenziali sulle coperture, le coperture saranno dovute in gran parte a riduzioni di spesa pubblica. Un altro capitolo significativo verrà dal mondo, dalla tassazione che riguarda il mondo dei giochi, quindi quello che ho detto prima sul fatto che non si tratti di entrate è in parte scorretto nel senso che su questo tema però ovviamente è una cosa che riguarda non tassazione dei cittadini ma che riguarda appunto il sistema delle imprese che vivono attorno al mondo dei giochi e delle scommesse e una terzo capitolo delle coperture e questa è l'ultima notizia che voglio dare dal Consiglio dei Ministri di oggi ma è, la metto in fondo ma è molto importante, è dato dal fatto che abbiamo deciso di immettere nel sistema nuovi 10 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni pubbliche. 10 miliardi di nuovi crediti che verranno subito immessi nel sistema, serviranno per creare più giro economico ovviamente, per creare occupazione e naturalmente porteranno entrate fiscali di IVA che serviranno appunto a parziale copertura di questo provvedimento. Quindi come potete vedere e termino, credo che abbiamo fatto una scelta molto coraggiosa, molto equilibrata, di riforma profonda che viene incontro all'esigenza dei cittadini, che serve a rilanciare il mondo dell'edilizia. Sul tema della cassa integrazione degli esodati abbiamo dato segnali importanti alle categorie oggi più svantaggiate degli italiani, quelli che hanno perso il lavoro, quelli che oggi sono in difficoltà e col provvedimento significativo e importante a favore dell'edilizia sociale e a favore dei mutui per la prima casa abbiamo dato risposte molto importanti alle categorie più disagiate di italiani nel rapporto con l'abitazione. Crediamo di aver fatto un lavoro importante, equilibrato, con questo provvedimento il governo credo faccia un grande passo avanti e con questo provvedimento il governo dimostra che cosa vuol dire coesione innanzitutto, gioco di squadra, perché questo provvedimento è stato costruito attraverso un importante gioco di squadra tra tutti i ministri e anche con forti collaborazioni fuori dal governo con rappresentanti del Parlamento che hanno giocato un ruolo molto positivo e molto importante. Credo di poter dire che quella data del 31 di agosto che c'eravamo data come data limite entro la quale assumere alcune decisioni, oggi è una data rispetto alla quale diamo una risposta molto positiva. Io personalmente sono contento, soddisfatto e in coscienza credo che abbiamo fatto un lavoro equilibrato e nelle condizioni date il lavoro più equilibrato che poteva essere compiuto e credo adesso che possiamo guardare al futuro dell'azione del governo sicuramente con molta maggiore fiducia perché la fiducia stiamo cercando di trasmetterla agli italiani attraverso questi provvedimenti. Mi fermo qui, do subito la parola come primo intervento al vicepresidente Presidente Alfano. Grazie, faccio fatica a nascondere la mia grande soddisfazione e dunque non la nascondo. Questa sera i telegiornali e domani i giornali porteranno nella casa degli italiani, nelle case degli italiani, una bellissima notizia. Peraltro una notizia non frequente e i nostri concittadini, gli italiani, dovevano pagare una tassa e non la pagheranno. Gli italiani dovevano pagare una tassa, era già una tassa inserita nei bilanci familiari, non la pagheranno. Gli agricoltori, i proprietari di fabbricati agricoli dovevano pagare una tassa, era già una tassa inserita nel loro budget, non la pagheranno. Ecco, un governo che fa una azione e un provvedimento di questo genere è un governo che è in grado di dire con la massima serenità una buona notizia per gli italiani, una bella notizia per gli italiani. Dico anche che è stata fatta nel modo giusto, cioè è un provvedimento tax free, è un provvedimento che non porta altre tasse. Spesso per finanziare la diminuzione di una tassa si è messa un'altra tassa. Qui per pagare, e non sono pochi euro messi nell'economia immediatamente, si tratta di oltre 4 miliardi di euro, per pagare, per finanziare, per coprire questi oltre 4 miliardi di euro non si è preso con un'altra mano un altro euro dalle tasche degli italiani. No, si è trovato un meccanismo assolutamente virtuoso di copertura di questa spesa. Quindi è un provvedimento tax free, senza tasse altre, senza tasse aggiuntive e devo anche dire che la filosofia che lo regge con la restituzione dell'idea federale della tassa unisce consenso e responsabilità. I cittadini eleggono i loro amministratori locali, gli amministratori locali saranno responsabili di fronte ai cittadini della imposizione fiscale che determineranno come equa per i propri concittadini. Aggiungo un altro elemento che mi pare molto importante. Noi raccogliamo in questo provvedimento il frutto di una cosa che ha funzionato. Noi ci siamo battuti moltissimo per fare sì che un principio eticamente ineccepibile, e cioè che i debiti si pagano, fosse applicato alla pubblica amministrazione. Il governo, lo Stato sta pagando i debiti alla pubblica amministrazione, questi debiti pagati hanno fatto entrare nelle casse delle aziende dei soldi, quei soldi sono stati spesi, hanno prodotto un gettito d'iva, quel gettito d'iva noi lo stiamo utilizzando per coprire la diminuzione della tassa sulla casa. È un circuito virtuoso che ha funzionato e che il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, come ricordava poco fa il Presidente, ha stabilito di accentuare con un'ulteriore irrogazione di risorse per altri 10 miliardi, perché ha funzionato e occorre farlo preliminarmente perché è giusto e poi perché funziona. Ecco, questa è un'altra scelta molto importante. C'è una scelta di fondo nel procedere alla decisione di oggi pomeriggio e la scelta di realizzare, e lo ricordava poc'anzi il Presidente del Consiglio, di realizzare un punto cardine del patto fondativo del Governo. Per noi ha il valore di una missione compiuta. Abbiamo cancellato l'Imu per il 2013 e nel vocabolario del futuro i testi di diritto tributario, ma anche i documenti dei commercialisti e delle famiglie italiane non troveranno più scritta la parola Imu. Arriverà la service tax che è collegata ai servizi che saranno resi ai cittadini. Anche questo mi sembra un risultato di straordinaria importanza. Perché? Perché dimostra che la buona politica, le buone scelte di Governo possono portare nelle case dei nostri concittadini buoni risultati e belle notizie. È un messaggio di speranza. Avere eliminato una tassa è anche un messaggio di speranza e di fiducia. E ricordiamoci sempre che la fiducia è un motore della ripresa economica. Ecco, noi pensiamo che l'Italia e gli italiani abbiano sufficiente forza per ripartire. E pensiamo anche che con le scelte che sono state compiute oggi pomeriggio noi abbiamo messo tanta e buona benzina nel motore dell'Italia. Io darei a questo punto la parola al Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni per un suo punto di vista. Grazie, ma non c'è molto da aggiungere in termini di dettaglio dopo le indicazioni che sono già state date. Io credo, mi limiterò a un paio di sottolineature che dal resto il Presidente e il Vicepresidente hanno già chiarito. C'è un forte elemento di sostegno alla crescita economica implicito in questo pacchetto, sia per l'eliminazione di tasse che erano già state incluse in bilancio, sia per il modo con cui si è voluto accelerare il processo di rimborso dei debiti di alcune amministrazioni periferiche dello Stato, che quindi complessivamente significa che nella seconda metà del 2013 il complesso dei rimborsi dei debiti della pubblica amministrazione ammonta a 30 miliardi di euro, perché 20 li abbiamo già sostanzialmente erogati a province, comuni, regioni e enti locali e gli altri 10 che abbiamo deciso oggi saranno anch'essi messi a disposizione degli enti locali in tempi brevi. Quindi questa è una manovra che vale due punti di PIL, soltanto la parte relativa al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e che si aggiunge alla misura che riguarda la tassazione della casa. Ci sono importanti elementi di dettaglio in questa manovra che verranno resi noti poi quando il testo sarà definito, ma vorrei anche dire che c'è una misura che vuole sostenere gli affitti, la riduzione dell'aliquota dell'acedolare secca per i contratti a canone concordato, viene ridotta dal 19 al 15%, c'è anche la previsione di una eliminazione, esenzione dall'IMU per le case invendute che dovrebbe servire a rivitalizzare il mercato della casa e quindi indirettamente l'attività economica in questo importante settore dell'economia italiana. L'altro punto che vorrei sottolineare riguarda il futuro, cioè il modello di tassazione comunale, federale come ha sostenuto il Presidente e il Vicepresidente e che entrerà in vigore al primo gennaio del 2014. Qui due sono gli aspetti importanti, la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili. Queste sono le due componenti della nuova service tax. Io direi che è importante sottolineare che le aliquote per quanto riguarda la prima componente di questa tassa saranno commisurate alla superficie e saranno parametrate dai comuni con ampia fessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario che chi inquina paga e correlativamente che chi invece è virtuoso dovrebbe appunto essere premiato. E comunque in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio. La seconda componente, quella di copertura dei servizi indivisibili, anche qui il Comune sarà libero di scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale e questo sarà a carico sia del proprietario, il quale gode indirettamente dei servizi pubblici che servono ad accrescere il valore commerciale dell'immobile, sia dell'occupante. Il Comune avrà adeguati margini di manovra anche qui nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale. Punto importante che il Presidente ha sottolineato è che viene preservata la capacità fiscale dei comuni nel pieno rispetto del principio federalista dell'autonomia finanziaria a tutti i livelli di governo che come è noto è sancito dalla Costituzione. Peraltro l'autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l'alto per evitare che questa autonomia possa essere utilizzata per accrescere indefinitamente la tassazione su questo comparto dell'economia e quindi sui contribuenti applicando un aliquote massime complessive che limitino la possibilità di incremento verso l'alto. Quindi ultima annotazione che mi sta particolarmente cara è il rispetto dell'impegno che abbiamo assunto solennemente anche a livello comunitario di mantenere comunque i saldi netti all'interno dei margini concordati del 3% e credo che questa manovra che complessivamente comporta in termini di coperture una cifra considerevole che si avvicina quasi 3 miliardi tenuto conto di tutti gli aspetti si aggiunge a una serie di manovre di copertura delle spese che sono state realizzate nei tre mesi di cui questo governo ha operato e che comporta complessivamente una copertura per 7 miliardi negli esercizi 2013, 2014 e 2015 che quindi mostra quanto si sia fatto per reperire all'interno dei vincoli stabiliti e concordati a livello europeo le risorse necessarie per rimettere in moto l'attività economica e per venire incontro a inderogabili esigenze di carattere sociale. Grazie. Darei la parola al Ministro Giovannini per la parte che ha a che fare con la Cassa Integrazione e con gli esodati. Grazie molto rapidamente. Sono due interventi importanti che si scrivono nella realizzazione del programma di governo per usare un po' la metafora usata prima dal Ministro Alfano con una mano si dà e con l'altra anche perché in realtà quello che si fa con questi due interventi lo ha già detto il Presidente del Consiglio da un lato è il rifinanziamento della Cassa Integrazione che segue già il rifinanziamento diciamo in generale degli ammortizzatori in deroga già fatta quindi al miliardo che era già stato rifinanziato nel corso del mese di maggio si aggiunge un altro mezzo miliardo in questo modo arriviamo per il 2013 a 2,5 miliardi che è l'ammontare che era stato speso nel corso del 2012 questo è stato un impegno importante sul piano finanziario naturalmente sappiamo che non è detto che questo esaurisca le necessità ma vedremo nel momento in cui non solo queste necessità diventeranno ancora più evidenti attraverso il monitoraggio che stiamo facendo ma anche in sede appunto di eventualmente più avanti nell'anno vorrei anche ricordare che il Governo ha messo a punto un decreto interministeriale sui criteri per l'uso degli ammortizzatori in deroga a partire dal 2014 anche perché nel 2014 dovranno partire i fondi di solidarietà tra imprese e sindacati per sostenere una parte dell'onere che oggi lo Stato si accolla con questi ammortizzatori in deroga il secondo intervento riguarda il tema di grande rilievo e di sofferenza sociale anch'esso inserito nel programma di Governo che è il cosiddetto problema degli esodati rispetto a quello che avevamo in mente e cioè fare un intervento, una proposta più avanti nel corso del prossimo mese abbiamo deciso di anticipare a questo provvedimento la quarta salvaguardia dopo le tre fatte dal Governo precedente ed è una salvaguardia che riguarda chi è stato oggetto di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che sarebbe dovuto andare in pensione secondo i vecchi criteri tra dicembre 2011 e dicembre 2014 quindi parliamo di persone che hanno perso il lavoro prima del 2011 e che avrebbero potuto andare in pensione con le vecchie regole fino a dicembre 2014 bene, queste persone vengono aggiunte alla platea dei cosiddetti salvaguardati i 130.000 che già sono stati finora salvaguardati ne aggiungiamo oltre 6.500 che sono in situazione di particolare disagio economico e sociale questo intervento dal 2013 al 2020 vale circa 700 milioni di euro sappiamo che ci sono altre categorie e allora uno potrebbe chiedere ma perché allora avete fatto un intervento su una categoria ristretta bene, noi abbiamo voluto anticipare il dibattito che certamente ci sarà in Parlamento su questo decreto come è giusto che sia in modo tale da trovare una soluzione complessiva anche ad altre categorie naturalmente nel rispetto dei vincoli finanziari in modo tale da poter anticipare il prima possibile proprio questo dibattito parlamentare e quindi la soluzione dei problemi vorrei ricordare e qui mi fermo che sommando il miliardo e mezzo messo sugli ammortizzatori in deroga al miliardo e mezzo messo sul decreto lavoro e ai 700 milioni messi su questa quarta salvaguardia complessivamente in questi tre mesi e qualche giorno questo governo ha messo 3,7 miliardi sul lavoro direi uno sforzo veramente straordinario che contribuisce insieme a quello che ha ricordato prima il Ministro Saccomanni a questo impegno per il rilancio dell'economia la riduzione del disagio sociale che sappiamo è ancora molto forte ma mi sembra un passo avanti importante Grazie Enrico il Ministro Lupi per la parte che lo riguarda Sì, grazie Presidente dunque abbiamo come ha detto il Presidente Letta incluso appunto in questo decreto anche provvedimenti di sostegno molto per noi efficaci e importanti per il sostegno all'accesso dell'abitazione sia per quanto riguarda l'acquisto l'acquisto della prima casa sia per quanto riguarda l'affitto e abbiamo anche previsto come è ovvio che sia anche interventi di aiuto e sostegno al settore immobiliare come si declinano questi interventi primo Cassa Depositi e Prestiti la funzione di Cassa Depositi e Prestiti la norma prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa mettere a disposizione del sistema bancario almeno 2 miliardi di euro per aiutare l'erogazione di mutui da parte delle banche alle famiglie per l'acquisto della prima casa o cosa altrettanto importante perché è in continuità con gli interventi che questo governo ha fatto per la ristrutturazione della casa o l'efficientamento energetico della propria casa ecobonus ristrutturazioni 2 miliardi di euro che quindi sono messi a disposizione del sistema bancario per erogare mutui agevolati alle famiglie era uno dei temi che era andato più in crisi in questi mesi secondo aspetto sempre di Cassa Depositi e Prestiti 2 miliardi di euro di un fondo che esiste già che è il fondo per l'abitare per l'abitazione il FIA che è a disposizione per la realizzazione di alloggi sociali abbiamo aiutato che finalmente questo fondo possa essere messo a disposizione perché una norma a proposito di IMU prevede che il regime del IMU per la prima casa si estenda anche all'edilizia sociale privata cioè all'housing sociale e questo permette ovviamente di che questi fondi abbiano quindi concorrenzialità nel rendimento dei fondi nella realizzazione appunto da parte di soggetti fondazioni bancarie fondazioni sociali eccetera dell'edilizia sociale privata e questo per quanto riguarda l'agevolazione dei mutui al settore alle famiglie per la realizzazione e l'acquisto della prima casa per quanto riguarda invece l'accesso alle famiglie sia per l'affitto che per le difficoltà che stanno incontrando per esempio per pagare i mutui della prima casa o le rate della prima casa abbiamo implementato tre fondi ne abbiamo istituito uno il primo fondo è il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa viene aumentato di 40 milioni portato complessivamente a 60 milioni è quel fondo a cui tantissime famiglie si rivolgono che vedono famiglie in difficoltà nel pagare il mutuo perché sono in grandi difficoltà la possibilità di sospendere per 18 mesi il pagamento del mutuo e questo fondo di solidarietà interviene a pagare ovviamente gli interessi che si dovrebbero pagare per il posticipo delle rate che per 18 mesi questa famiglia non può fare secondo fondo il fondo e qui c'è una grande novità per l'accesso al credito l'abbiamo fatto col ministro Chienge abbiamo fatto un buonissimo lavoro sul tema appunto famiglie giovani giovani appunto che hanno un lavoro a tempo determinato un lavoro precario un fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa non solo da parte di giovani coppie ma anche ed è introdotta per decreto questa novità da parte di lavori atipici di lavoratori atipici di età inferiore ai 35 anni questo fondo viene implementato di 60 milioni di euro poi passiamo all'aspetto altrettanto importante che è quello dell'affitto dell'aggevolazione della locazione di intervenire su un tema che è fondamentale nel nostro paese era azzerato il fondo a disposizione dei comuni il fondo appunto per l'accesso all'abitazione in locazione per l'intervento da parte dei comuni per coloro che sono in difficoltà viene implementato di, viene implementato no perché era zero viene ricostituito per 60 milioni di euro il nuovo fondo è la categoria che ha detto prima il Presidente del Consiglio Letta noi abbiamo una nuova situazione di una figura drammatica di persone che hanno sempre pagato l'affitto della loro casa perdono lavoro e si trovano si dice morosità incolpevole a non poterla pagare allora si istituisce un fondo di 40 milioni di euro proprio per intervenire su questa tipologia di persone o di famiglie che non debbono subire un ulteriore danno non solo dalla perdita del lavoro o dalla gravità della situazione economica ma anche magari dal vedersi perché non pagano l'affitto sfrattati ovviamente infine abbiamo siamo intervenuti due misure le ha già dette le ha già dette il Ministro Saccomanni quindi non le ripeto solo come titolo l'IMU sull'invenduto delle case è evidente che è un recupero di una iniquità che era prevista dall'IMU nell'anno precedente l'invenduto delle case invendute non si pagherà appunto non si pagherà più la seconda rata e non si pagherà più l'IMU sull'invenduto abbiamo introdotto anche definitivamente che il principio che l'IMU sulle case popolari quindi le case che di proprietà degli ACP delle ALER ovviamente non si paga così come per le cooperative a proprietà indivisa ultimo elemento anche questo sul settore immobiliare una proroga per ulteriori tre anni per gli interventi che devono essere completati vista la crisi di ristrutturazione di riqualificazione edilizia nelle diverse città questa proroga permette di avere ancora l'agevolazione dell'imposta di registro all'1% anziché all'8% come avete visto è a completamento di questo disegno importante tenete conto che le risorse che vengono messe a disposizione di questo pacchetto sono per circa 4 miliardi e 400 milioni 4 miliardi da parte di Cassa Deposito e Prestiti 400 milioni come quantificazione degli interventi sociali perché li definirei in questo modo di aiuto alle famiglie e alle imprese mentre il ministro Del Rio e il ministro Lupi si scambiano di posto dare la parola al ministro De Girolamo per la parte che appunto riguarda i terreni agricoli Sì grazie io ovviamente solo per esprimere soddisfazione non posso nascondere esattamente come il ministro Alfano la soddisfazione personale ma soprattutto di tanti agricoltori questa tassa limo agricola è stata pagata nel 2012 da 3 milioni di contribuenti di cui 600 mila aziende agricole e si trattava di una tassa doppiamente ingiusta perché veniva tassato uno strumento della produzione quindi crediamo non solo di aver fatto risparmiare agli italiani una tassa ingiusta ma una tassa che era doppiamente ingiusta oltre a quella sulla prima casa quindi ovviamente volevo ringraziare il presidente del consiglio il vice premier il ministro Saccomanni per la sensibilità nei confronti di un settore che nonostante la crisi regge da grandi soddisfazioni qual è il settore dell'agroalimentare il settore agricolo quindi questa è una testimonianza di vicinanza ad un mondo importante che ci dà grande soddisfazione anche all'estero quei soldi che 3 milioni di contribuenti risparmiano grazie al governo che rappresentiamo potranno essere investiti per fare innovazione per essere ancora più riconoscibili nel resto del mondo grazie ai prodotti dell'agroalimentare che l'Italia produce grazie il ministro del Rio sì grazie il presidente ha già detto credo in maniera molto precisa ed efficace tutto quanto io volevo esprimere soddisfazione perché noi così diamo garanzia ai comuni di una copertura totale per il 2013 diamo ai comuni lo strumento che hanno chiesto da tantissimo tempo uno strumento che superi i problemi dell'IMU l'IMU che viene già corretta in questo provvedimento in maniera molto importante con la deducibilità per le imprese con il fatto che venga tolto nelle case e in loggi popolari tutte cose che i sindaci hanno chiesto da tempo ci sono misure sociali molto importanti il lavoro del ministro Luppi è stato molto efficace e anche l'IMU sull'invenduto erano tre problemi molto rilevanti nell'economia e nell'equilibrio delle comunità locali con la nuova liquota federale come hanno efficacemente spiegato il presidente del consiglio e il ministro Saccomanni noi daremo la possibilità ai comuni di manovrare una liquota di renderla più consona al principio liberale appunto della relazione con i loro elettori ai sindaci e soprattutto avremo la possibilità di correlarla alla qualità dei servizi e anche di renderla più equa e più progressiva più manovrabile di quello che l'IMU era particolare soddisfazione è poi il fatto che c'è una semplificazione fiscale ci sarà una semplificazione fiscale uniremo appunto le tasse come è stato detto e soprattutto supereremo i problemi che l'attuale TARES ecco forse vi ha ricordato che non solo il regime come ha ricordato il ministro Saccomanni ma già da quest'anno i comuni potranno manovrare l'attuale TARES che destava grandi preoccupazioni a famiglie imprese perché le famiglie numerose avrebbero pagato tantissime tasse con questo regolamento i comuni potranno fare nuovi regolamenti su nuovi principi e quindi già da quest'anno sulla TARES avremo un beneficio molto importante da ultimo tutto questo senza creare problemi di liquidità ai comuni aiutandoli e rinviando i bilanci e rinviando l'accesso ai crediti quindi una situazione che credo possa far dire agli enti locali che le loro richieste e il loro desiderio di concordare insieme alla definizione della nuova tassa sono state pienamente raccolte e nei prossimi giorni nelle prossime settimane appunto lavoreremo intensamente per prepararsi a legge di stabilità con una nuova tassa adatta a un grande paese europeo come l'Italia bene c'è qualche domanda Buonasera Rosa Melucci Agora Estate due domande la prima per il Presidente del Consiglio superato lo scoglio Imo a questo punto quanto durerà il Governo per quanto andrà avanti eh lo so però ce lo chiediamo tutti e poi per lei Vice Presidente Alfano lei considera questa una vittoria del PDL? Io rispondo alla seconda domanda questa è una vittoria del Governo e io rivendico il fatto che questo Governo ha dimostrato in questa vicenda gioco di squadra compattezza il menu e il ventaglio di provvedimenti che abbiamo presentato lo dimostra credo che anche il buon compromesso che abbiamo trovato sulla vicenda complessiva dell'Imu lo dimostra e io penso anche che questa giornata di oggi possa finalmente far finire domande come quella la prima che lei ha fatta non c'è più scadenza allora innanzitutto mi mi giovo della domanda per ricordare che l'80% degli italiani sono proprietari di una casa quindi vuol dire che qui ci sono milioni di vincitori e sono gli italiani che dovevano pagare una tasse e non la pagheranno più per quanto riguarda la vicenda di oggi pomeriggio io credo che un governo che realizza un punto fondamentale del programma è un governo a cui la sua domanda non va rivolta quindi è impropria basta ha fatto la domanda adesso ci sono altre cinque domande quindi buonasera Lorenzo Salvia Corriere della Sera ci date qualche dettaglio in più sulle coperture il ministro Saccomanni diceva che in questo decreto ci sono tre miliardi circa in particolare c'è ad esempio la transazione sulle sanzioni dei giochi passato e se ci sono anche clausole di salvaguardia ultima cosa lampo velocissima l'IMU degli enti di ricerca c'è qualche modifica oppure no l'IMU sugli enti di ricerca come abbiamo detto ci sono una serie di dettagli da mettere a fuoco io credo che gli elementi essenziali delle coperture sono uno l'IVA su IVA connessa con il pagamento ulteriore dei debiti delle pubbliche amministrazioni c'è un provvedimento come ha detto anche il presidente del consiglio che riguarda il comparto dei giochi elettronici che dovrebbe coprire un contenzioso ancora aperto a saldo ci saranno anche dei tagli di spesa perché è un punto sul quale il governo è stato spesso chiamato a esprimere un'opinione abbiamo detto sempre che la nostra strategia era quella andando avanti di agire sul fronte della spending review in maniera sistematica piuttosto che attraverso il meccanismo dei tagli lineari o indiscriminati e in questa occasione cercheremo e questo spiega perché abbiamo bisogno ancora di qualche ora di lavoro di fare delle cose di carattere selezionato concordato con i vari ministeri ma di dare un segnale significativo anche sul fronte dei tagli di spesa e per la questione degli enti di ricerca è una delle cose che dobbiamo vedere come sistemare nella finalizzazione del decreto Buonasera Dara Paoli Tiscati G24 se ho capito bene nella definizione della service tax di cui parlava il ministro Saccomanni c'è una seconda parte che riguarda la gestione e il finanziamento dei servizi indivisibili che potrà essere finanziata con l'aliquota con la tassa di fatto sulla casa perché ha parlato se ho capito bene di rendite catastali e aliquote questo significa che la l'Imu che viene cancellata come è stato detto di fatto viene concessa ai comuni l'onere di reintrodurla sotto il grande cappello della service tax la risposta è no peraltro credo che vi sia vi verrà distribuita una pagina nella quale c'è la spiegazione precisa dell'architettura della service tax è un cambiamento radicale di fondo come l'ha detto il ministro Del Rio tocca appunto la questione dei servizi la modalità diversa l'utilizzo di ciò che ho fatto l'esempio del condominio il condominio secondo me è il miglior esempio nel condominio appunto si vive usando spazi comuni pagando un canone condominiale per i servizi che si hanno quindi la service tax sarà dentro questo tipo di filosofia non sarà un'Imu mascherata ma anche perché diciamo è finalmente una forma di imposizione che i comuni possono usare secondo il meccanismo della responsabilità cosa che l'Imu non era e la logica dei servizi che citava prima il ministro Del Rio crediamo possa superare in positivo una situazione di grande criticità che abbiamo vissuto in questi anni comunque la pagina che abbiamo distribuito può essere credo utile della Pasqua del tempo una domanda per il ministro Saccomanni anzi due domande per il ministro Saccomanni allora l'introduzione della service tax praticamente la definizione delle aliquote sarà di pertinenza esclusivamente dei comuni avete considerato il fatto se ci potrà essere un rincaro rispetto a quanto viene attualmente pagato complessivamente insomma tra l'Imu e la Tares e poi se ci saranno aggravi per la seconda casa secondo me sulle questioni trovate in questo particolare nella secondo nell'ultimo paragrafo lei trova la risposta che è poi quello che ho letto io precedentemente cioè dicendo che ci sarebbe stato un limite alla possibilità di come dire da parte dei comuni di accrescere il carico fiscale sui contribuenti quindi sarà e i parametri che sono indicati lì sono parametri indicativi che i comuni dovranno scegliere per determinare qual è il livello giusto di tassazione dati certi determinati servizi in certe determinate località e parti delle città in considerazione il risultato sarà un'invarianza in positiva rispetto a quello che noi già abbiamo facendo una sommatoria tra l'IMU e la TARES attuale assolutamente no non ci sarà un'invarianza ovviamente ci sarà una riduzione del carico complessivo dopodiché ovviamente questa discussione è una discussione che avverrà in queste settimane con i comuni perché diventa un'imposta federale e poi col Parlamento che l'approverà ma il complesso dell'operazione sarà un complesso a regime di riduzione del carico fiscale come è scritto dentro il provvedimento Andrew Fry di Bloomberg una domanda per il ministro Saccomani il suo ministero un paio di settimane fa ha definito l'abolizione la potenziale abolizione dell'IMU sulla prima casa per tutti potrebbe essere una soluzione ingiusta e inefficiente come si può quadrare quella valutazione con la soluzione che poi è venuta e poi per il presidente eletto il PD sembra che da un po' sta per la tassazione progressista volevo chiedere se era confermata che la PD vorrebbe una tassazione più progressista e se sì come si fa sempre a quadrare quella valutazione con la soluzione di togliere tutto sul primo punto il ministero ha distribuito il 7 di agosto un documento tecnico in cui si esaminava proposta per proposta tutte le varie idee che venivano che venivano che erano state presentate in tema di riforma della tassazione degli immobili non c'era una posizione del tesoro del ministero delle finanze questo è stato anche oggetto di qualche di qualche critica anche se chiaramente leggendo tutto il documento si capiva che il senso in cui noi avremmo voluto muoverci era quello appunto indicato con la riforma che abbiamo presentato oggi cioè verso un superamento dell'Imu come era stato concepito e un a regime un nuovo sistema di tassazione basato appunto sui servizi con le indicazioni che saranno poi nel documento che abbiamo distribuito quindi questo era lo scopo di quel documento era di chiarire che c'era stato un ampio esame di tutte le proposte ma non era quella la proposta del ministero delle finanze perché è quella che è stata invece recepita oggi insieme con i colleghi del governo per quanto mi riguarda io insisto su un punto molto chiaro la riforma dell'Imu il superamento dell'Imu era parte integrante non soltanto del programma di governo votato dal Parlamento ma era parte integrante dei programmi elettorali dei partiti che hanno sostenuto il governo tutti chi più chi meno chi in una forma chi in un'altra la progressività dell'imposizione fiscale che rappresenta non soltanto un obiettivo del PD ma rappresenta un principio costituzionale è una progressività che dentro l'attuale Imu non era applicata il superamento dell'Imu e l'approdo per la questione delle tasse che riguardano i municipi comuni quindi con l'inserimento della Tares la riforma della Tares quindi la nuova service tax è l'approdo verso la possibilità per i comuni di inserire elementi di progressività quindi in questo senso da una situazione iniqua perché la progressività era sostanzialmente assente oggi si entra dentro una discussione che faremo con i comuni e il Parlamento nella quale invece la progressività può entrare e questo io lo ritengo un pezzo importante e positivo della riforma che appunto introduce elementi di equità e di progressività che rappresentano ripeto un riequilibrio di una stortura che sicuramente c'era prima un'ultima buonasera segno Bonini per Rai News 24 Presidente Letta quest'oggi abbiamo registrato le parole dell'ex Premier Monti che per due aspetti ha detto sull'Imu c'è stato un cedimento da parte del Presidente del Consiglio Letta e del Ministro dell'Economia Saccomanni nei confronti delle pressioni del PDL altro aspetto ha detto l'Europa ci chiedeva una tassazione sugli immobili e ci chiedeva uno sgravio della tassazione sul lavoro è stata presa una scelta diversa che risposte potreste dare all'ex Premier Monti grazie io confermo quello che ho detto prima cioè ritengo che abbiamo trovato un buon compromesso e una buona riforma quella che introduciamo una riforma che ovviamente riguarda questo settore è una politica complessiva che rilancia dell'edilizia aiuta il sistema della casa aiuta le famiglie italiane aiuta i comuni e crea maggiore progressività e maggiore equità quindi è una riforma che io difendo per il merito non per il tipo di intese politiche difendo per il merito questo non vuol dire che questa sia l'unica cosa che fa il governo questo è un capitolo dell'azione del governo sul tema del lavoro e sul tema della crescita il governo non soltanto ha già cominciato a muoversi ma la legge di stabilità sarà il terreno sul quale io credo che si potrà lì dare le valutazioni su quali saranno i giudizi sulla politica del governo sul tema della crescita e sul tema del lavoro e ritengo che su questi temi alcune anche delle cose che sono inserite qui dentro daranno un'indicazione molto importante e molto positiva dopodiché mi fermerei qui perché credo che molte cose le potete vedere sia nel testo che vi abbiamo distribuito poi nei passaggi anche successivi grazie 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 grazie